Tradizionale pranzo di Natale organizzato a Roma dalla comunità di Sant'Egidio, sempre al fianco dei più bisognosi. Ci aggiorna in diretta Elena De Vincenzo. Elena. È così, quest'anno torna anche proprio il pranzo in presenza, ma noi, lo vedete, siamo in uno dei tanti punti raccolte della comunità di Sant'Egidio. La frutta, il latte, l'olio, beni, prodotti che poi diventano buste regalo, doni rossi da portare sulle tavole di chi sta vivendo momenti di difficoltà e magari non può garantire un pranzo di festa. I volontari, come Rita, sono già al lavoro per preparare i pacchi, come Massimiliano, che è qui con noi, a cui chiediamo quante persone sperate di raggiungere in Italia e poi ancora, sì, torna il pranzo qui a Roma in presenza, ma con limitazioni. Sì, abbiamo preparato per 80.000 persone in tutta Italia. Vogliamo vivere queste feste con responsabilità, ma anche con tanta solidarietà. A Santa Maria in Trastevere ci sarà il pranzo di Natale col Green Pass per 150 persone, anche in tante chiese e sedi della comunità di Sant'Egidio in Italia. e vogliamo lanciare un forte messaggio di solidarietà perché la gente ha bisogno di buone notizie. C'è bisogno di far vedere che nessuno è abbandonato e che nessuno è escluso. Per questo vogliamo vivere queste feste con grande solidarietà. Solidarietà che è arrivata. Se da un lato, lo abbiamo raccontato in questi giorni, sono aumentati i numeri dei nuovi poveri, dall'altro sono aumentate anche i volontari, la solidarietà degli stessi cittadini. Allo studio.